Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica finanzia con 115 milioni di euro 75 nuovi progetti di realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti plastici, compresi quelli recuperati dal mare. Il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero ha approvato infatti il decreto di concessione dei contributi ai progetti FARO di economia circolare per il riciclo della plastica, una specifica linea di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, estende la platea dei beneficiari già individuati dal precedente decreto grazie alla rimodulazione delle risorse non utilizzate per altre linee. Il finanziamento ai soggetti beneficiari, la cui lista è pubblicata sul sito del Ministero, consentirà la realizzazione di nuovi impianti di riciclo meccanico, chimico e i plastic hubs, anche per recuperare il cosiddetto marine leader. Per il Ministro Gilberto Picchetto, l'investimento del PNRR dà la possibilità di far crescere nel Paese una filiera dell'innovazione sul dirimente problema della gestione dei rifiuti plastici e l'Italia vuole essere ancora una volta un riferimento virtuoso.